Ristorante Pizzeria Garden, tutto il buono della tradizione bergamasca. Il ristorante Pizzeria Garden è adiacente allo stadio comunale di Bergamo, facilmente raggiungibile sia dal centro che dalla circonvallazione. Al suo interno offre un'atmosfera confortevole e varie specialità come il piatto unico e il servizio alla lampada, oppure un ricco menù con piatti di cucina creativa ed un menù tipico bergamasco con qualche eccezione di gola. Il ristorante Garden propone ottime pizze cucinate nel forno a legna, anche fatte con impasto di colore verde, nero, rosso oppure con farina di kamut e farina integrale. Per accompagnare i piatti serviti, il ristorante produce squisiti pani e grissini e biscotti e dolci per deliziare il palato a fine pasto. Si realizzano anche piatti da sporto e tra i servizi realizzati esiste anche l'organizzazione di ricevimenti, cene di lavoro e catering per eventi aziendali. Ristorante Pizzeria Garden, la golosa cucina bergamasca.